La Bella e la Bestia dove i vari personaggi erano stati trasformati in oggetti Oggi Benedetta indossa un vestito degno delle migliori favole Buongiorno, oggi volevo farvi vedere il mio vestito Sembro uscita da Alice nel Paese delle Veraviglie Perché siamo un po' una bajur Come si chiamava? La Bella e la Bestia dove i vari personaggi erano stati trasformati in oggetti Ecco, io sembro una bajur, non vi svelo il motivo per cui ho questo vestito meraviglioso Che però non è proprio molto confortevole, infatti adesso me lo vado a cambiare Però volevo farvelo vedere, è stato molto divertente indossarlo Adesso vado a mettermi qualcosa di un po' più confortevole e continuo la puntata Oggi martedì, si lavora, tempo così così Cos'altro dire? Niente, non vedo l'ora di togliermi queste stecche dalla vita Però ragazzi, vi farò vedere una foto di come viene l'effetto indossato Perché è meraviglioso Se questo video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti al canale